Vediamo dunque, proverbi 27, 19. Come nell'acqua il viso risponde al viso, così il cuore dell'uomo risponde al cuore dell'uomo. Io non so che cosa significhi. Va bene, vediamo una frase alla volta. La prima parte. Come nell'acqua il viso risponde al viso. Sì, significa che quando tu guardi l'acqua vedi il riflesso del tuo viso. Bene, e adesso la seconda parte prova a spiegarmela tu. Credo che c'entri sempre il riflesso. Quando tu conosci il tuo cuore puoi capire quello di un altro. Giusto. Cosa significa questo per te? Che nel profondo siamo tutti uguali, anche se possiamo sembrare diversi. Sì, esatto. Se continui così, Mrs. Stewart ti lascerà nel coro. Mi dispiace, ho sentito mentre stavate parlando in classe. Certo, è una cosa imbarazzante. Io non so se ce la farò. Sì, ce la farai. Grazie dell'aiuto. Non montarti la testa, è solo che mi serve un corista. Va bene, ok, ho capito. Andiamo. Grazie. Grazie.